Ciao a tutti ragazzi, abbiamo visto questo nuovo video siamo su pix... 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 forze... e... insomma... io questo non ci giocavo sempre ma mi chiamavo su mie e cazzo per mia sorella questo voglio farvi vedere questo vero successo mmm... facciamo... e... noi qua... vedete questo che è la rossa mi avevo... il giallo è una mamma è una mamma è una mamma è una mamma ah... 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 ma noi abbiamo questo ci sono due livelli a prendere prima questo e poi l'uomo facciamo anche con un cazzino e animali ma non sono qualcuno è una mamma è una mamma è una mamma è una mamma eh... summite ho la ma noi in questo gioco si scelta si è veramente già il primo livello ma io provo da giorni scelta ok ragazzi sono molto fermata ma ho anche 25 anni ma io ho messo ma io faccio ma io chavo ma che verormo ma io come Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.